Gentili telespettatori, buona giornata. E così, come vi dicevo con uno dei primi video della giornata, è il momento di Scurati. Questo scrittore semi-sconosciuto, per i più sconosciuto, se fino a due settimane fa dicevi chi è Scurati, avessero chiesto a me chi è Scurati, vi avrei risposto, io avevo un compagno di scuola, forse era una classe più avanti, che si chiamava Scurati. Invece è uno scrittore, che è arrivato al centro dell'attenzione perché è stato censurato malamente in RAI, da gente poco professionale, ed è stato un boomerang. Manco i censori sono capaci a fare un boomerang, adesso il suo monologo è diventato famosissimo, anche nelle discoteche, prima delle musiche quelle forti c'è il monologo di Scurati. Adesso è il monologo di Scurati, ecco, va bene. Comunque, lui nel suo momento dice, io non sono l'eroe di niente nessuno, né tantomeno un profeta. Lo dice intervenendo all'incontro, come sta la democrazia? In Viale Pasubbio a Milano. E dice così, a dieci anni da quando ho iniziato a lavorare sulla biografia romanzata di Mussolini, il mio bilancio è positivo dal punto di vista dello scrittore, ma molto negativo da quello di cittadino, perché evidentemente non ero fuori strada. Dice perché? Quindi lui dice, come scrittore è dieci anni che studio la biografia romanzata di Mussolini, e però come cittadino non ero fuori strada. Perché? Lui dice, non aspettatevi camice nere che vi bussino alla porta. C'è una certa deriva fascistoide, non fascista. Quello che doveva tornare è qui, in tante e piccole grandi cose. Cioè, non è che stanno tornando, ci sono già, sono già nelle istituzioni, sono arrivati vincendo le elezioni, ma non sono fascisti, sono fascistoidi. Quindi, quello che doveva tornare, dice, è già qui, comprese quelle cose che mi hanno riguardato. Facendo riferimento alla cancellazione del monologo sul 25 aprile dalla trasmissione che sarà condotta da Serena Bordone in onda su Rai 3. Pertanto, qual è il riassunto dei fascistoidi? Il fascistoide possiamo definirlo come un emulo, cioè una persona, un gruppo di persone che scimmiotta il fascismo. Cioè, il fascistoide non è un fascista, anche perché, vi ricordo, che il fascismo è finito nel 1944-1945. Finito. Poi, con la nascita della Repubblica, il fascismo è stato cancellato dalla Costituzione. Non c'è più. Oggi, non c'è quasi più nessuno di quell'epoca, rimane ancora qualcuno, ma è molto avanti con l'età. Quindi, quando lui dice, non ci sono più fascisti, è vero, i fascisti non ci sono. Quando lui dice, non aspettatevi le camicie nere che vi bussino alla porta, è vero. Oggi non c'è nessuna camicia nera che vi busserà un giorno alla porta. Non c'è nessun ritorno del fascismo e non ci sarà mai. Dice, quelli che lui definisce deriva fascistoide, i fascistoidi, ci sono già al governo. Lui dice, sono quelli che scimmiottano il fascismo, sono come delle caricature, gente che non ha mai conosciuto il fascismo, perché è gente che ha 30, 40, 50, 60 anni, 70 anni, è gente che non ha mai vissuto quel periodo. Ma lui dice, sono dei fascistoidi. Andiamo a vedere se esiste una vera definizione di fascistoide. Vediamo. Allora, vediamo, perché ho il computer che fa un po', che fa un po', che fa un po' quello che vuole. Allora, vediamo, fascistoide, significato, ci sono vari significati, affine o incline al fascismo, è un atteggiamento che tiene la tendenza fascista o sembra, quindi un'attitudine, un modo di comportarsi, che manifesta attinenza con il fascismo. Vediamo, se troviamo altre definizioni, che tende al fascismo. Allora, possiamo dire che chi sostiene il fascismo in modo ambiguo o generico, Allora, gli atteggiamenti fascistoidi sono degli atteggiamenti non fascisti, ma che sono un po' autoritari, che scimmiottano il fascismo, non so quello che fa il saluto romano ma non sa cosa sta facendo, quello che ti tira fuori gli slogan degli anni 20, degli anni 30, senza sapere bene quello che sta dicendo o sta riproducendo. Quindi l'atteggiamento fascistoide, lui dice, quelli che sono al governo non sono fascisti, sono fascistoidi, non sono quelli con la camicia nera che non verrà nessuno a bussarti alla porta di casa, ma quell'atteggiamento fascistoide, lui dice, quello che ho subito io, cioè quella censura che ho ricevuto in Rai. Ma attenzione, l'atteggiamento fascistoide non è un atteggiamento solo di destra, è un atteggiamento di destra e di sinistra, perché l'atteggiamento fascistoide è trasversale. Voi sapete che c'è il fascismo di destra e il fascismo di sinistra. Sul fascismo di sinistra ne abbiamo parlato su questo canale per tante o tanto tempo. Quindi l'atteggiamento fascistoide è anche quello della sinistra in Rai che prende il contratto di Orsini a carta bianca e lo straccia, perché andava a dire delle cose che non piacevano a quel governo. E poi ci sono tante persone che sono state allontanate dalla Rai, Giletti, Porro, Porro era il Rai, Giletti erano il Rai, sono stati allontanati da chi? Dalla sinistra. Quindi quando parliamo di fascistoidi, non è detto che stiamo parlando di destra, stiamo parlando di destra e di sinistra, è un atteggiamento. Grazie a tutti e arrivederci a presto.